Salve ragazzi, è arrivata ora la collezione di Neve Cosmetics Voglio sbrigarmi perché vi voglio fare intanto un videoprova e strostrada dove vi faccio vedere alcuni colori all'opera e poi nello stesso tempo voglio farvi tutti gli sbuocci fuori e sistemare insieme i tester che sono arrivati Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti